Un latitante di Gioiosa Ionica, Renzo Roccisano, 50 anni pregiudicato, coniugato e di professione manovale, è stato catturato dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica nella propria abitazione, sita Gioiosa Ionica, incontrata a Buizzi. Il latitante, che era ricercato dai carabinieri, condannato per reati commessi nel 2002, è stato sorpreso e arrestato nella propria abitazione. Roccisano è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di carcere per i reati di produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsione in concorso. Era ricercato e quindi latitante dal 2 marzo del 2017. L'operazione è stata realizzata agli uomini dell'arma ed in particolare dai carabinieri della stazione di Gioiosa Ionica, comandata dal maresciallo Francesco Albanesi, dal nucleo investigativo della compagnia di Roccella Ionica, diretta dal capitano Carmelo Berlingheli e dai cacciatori da Spromonte, Falco 21. L'uomo, dopo essere state espletate le formalità di rito, è stato tradotto nelle carcere di Locri, un'operazione che corona il lavoro silente e certosino degli uomini dell'arma, che anche dopo diversi anni riescono a restituire alla giustizia latitanti che avrebbero fatto perdere le proprie tracce.